Sì, ma ripeto, secondo me non che prima non lo fossi stato, è abbastanza evidente che se in quella dichiarazione del Comune non erano ricomprese alcune cose, era una dimenticanza e poi ovviamente, però non ho l'ineleganza di prendermela con un assistente che non ha preparato bene i moduli. Quindi rimane una responsabilità mia. Rimane il fatto che sulle cose che contano, quindi sul pagamento delle tasse, la dichiarazione dei renditi di oggi ha dimostrato, non c'è bisogno per me, ma ha dimostrato che le tasse io le ho pagate tutte, come le ho pagate tutte da sempre. Speriamo che tutti, non parlo di candidati sindaci, ma che tutti possano essere nella stessa condizione mia. Ma a che dimenticanza si riferisce? A una casa all'estero che era in un altro quadro e che non è stata ripresa. Si aspetta che anche gli altri candidati mettono? E' una loro scelta, tra l'altro io ho pubblicato la dichiarazione non dell'ultimo anno, ma dell'anno precedente, che parla per coerenza con quella dichiarazione. E' una loro scelta. Certo è che, visto che ci siamo, ripeto, ribadisco la mia proposta, cioè pubblichiamo tutti i nostri renditi. Però è una scelta che ognuno farà. Certamente se qualcuno deciderà di non farlo non sarò io a criticare, semmai i cittadini che comunque immagino che vogliono sapere qual è la nostra situazione economica e patrimoniale. Ripeto, credo che ci siano pochi segreti per tutti però. Grazie. 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 Grazie a tutti.